Il vertice governo sindacati, passiamo ad un altro sindacato, è partito il 128esimo convegno nazionale della Fabia, poche settimane dalla firma del contratto nazionale del settore bancario, quali sono gli scenari per le diverse realtà del paese? Il contratto nazionale dei bancari, a poche settimane dalla firma, un contratto che ha riguardato 270.000 lavoratori che resterà in vigore fino a marzo del 2026. Tutto questo al centro della tre giorni del Consiglio nazionale della Fabia, la Federazione Autonoma dei Bancari Italiani, giunto alla sua 128esima edizione. Di fatto cosa cambierà per le diverse realtà bancarie? Si farà il punto su uno scenario in continua evoluzione, lo scenario dei tassi, ma anche la trasformazione digitale, la banca digitale, la tutela dei lavoratori, l'attrattività per il mondo dei giovani. Ci aspettiamo innanzitutto un confronto molto serrato sui singoli argomenti, soprattutto la banca digitale è un argomento che andrà affrontato in profondità nei gruppi, con una contrattazione e con un confronto tra sindacati e banche molto serio, perché la banca digitale molto probabilmente sposterà un numero importante di lavoratori. Il contratto nazionale in che momento è arrivato? È un momento delicato, banche forti, li abbiamo visti nei risultati, dove la grande sfida è quella dei tassi di interesse. Quindi uno scenario in continua evoluzione. Questo che cosa significa per voi? Significa che intanto il governo non ha preso posizione sull'argomento principale che è il Monte dei Paschi e non la prenderà finché non saranno effettuate le elezioni europee di giugno. Quindi io penso che il settore rimarrà inchiodato fino ad oggi. Quindi per quanto riguarda il Monte dei Paschi il governo dovrà decidere insieme all'amministratore delegato del Monte dei Paschi, che ha gestito bene la banca fino ad oggi, che fine farà questa banca. Ultima domanda è uno scenario che sta delineando con noi. Quanto posto c'è per l'M&A bancario? Perché non se ne parla più tanto. Ma non se ne parla tanto perché gli amministratori delegati, alcuni, non possono muoversi perché l'antitrust non glielo permetterebbe in quanto hanno occupato una fetta importante di mercato. Altri prendono tempo costruendo dei piani industriali stand alone proprio per mantenersi la loro nicchia di mercato. Una nicchia di mercato che però obiettivamente voglio fare nome e cognome, è il caso del Banco BPM, è stata gestita molto bene da Castagna. Chiaramente la dimensione del gruppo oggi è fondamentale, ma soprattutto la spada di Damocle è la politica dell'ABC che non è poi neanche più così tanto nascosta. Vuole una diminuzione numerica dei grandi gruppi bancari. Ci fermiamo, qualche minuto di pubblicità e poi di nuovo insieme con la chiusura di Piazza Affari tra poco.